Una curiosità Maurizio, riguarda la preparazione di questo lavoro bellissimo tra l'altro, davvero tanti tanti complimenti, un documentario, un film necessario, ecco tu ti sei messo lì a tavolino non credo, hai preparato una lista, sento la touche, sento il filosofo francese, sento l'attivista indiana e poi come li hai contattati, come ci sei arrivato, oppure sono frutto di incontri che sono capitati mentre eri in altre situazioni, volevo che ci raccontassi un pochino questo documentario. No, sincero non esiste una scrittura di questo documentario se non una cosa che stava nella mia mente, e quindi esiste una scaletta certo di temi, quello sì, perché a un certo punto come vedete il documentario svolta su Olmi e comincia a parlare appunto di quello che succede attraverso l'economia, gli OGM, tutte queste cose qua, quindi Olmi sposta il discorso dall'immigrazione, quello che cerca una felicità, a quello che noi mangiamo per esempio, quello che vogliamo chiedere al contadino. Questo era ben chiaro dentro all'inizio come ragionamento che non potevo andare avanti tutto il film a parlare di immigrazione e queste cose, quindi dovevo spostarlo per i vari assetti che poi assume il film. Così facendo ho cominciato, non mi ricordo nemmeno più cosa ho cominciato a girare per il primo, ma mi aveva colpito questa cosa della Danimarca. A Danimarca queste cose che io continuavo a leggere, il mondo più felice, il paese più felice del mondo, queste cose qui, e credo di essere andato per la prima volta proprio, l'inizio delle riprese è stato proprio a Copenaghen. Oltretutto a Copenaghen c'è questo istituto che uno dice, ma cavolo fai lì dentro a queste stanze a studiare la felicità, no? Oltretutto pagato dallo Stato danese, ci sono sette persone che lavorano dentro lì. Però loro svolgono un lavoro anche importante per quanto riguarda la crescita del loro popolo. Prova a raccontaglielo qui, di mettere in piedi un istituto per la felicità, ti sparano subito, no? Gli incontri poi con le persone, vabbè, sono persone che conoscevo. L'unica persona alla quale con una grande spudolatezza io ho chiesto un'intervista, perché mentre stavo andando a Parigi dalla Tuche, sull'aereo c'era l'aria Muschkin. E allora sono andato lì e gli ho chiesto, io sto facendo questo e quest'altro, mi piacerebbe venire a trovarla e sentire cosa ne pensa lei. E lei si è fatta raccontare un po' appunto come era, mi ha chiesto in questo momento lei, come era il documentario, le ho raccontato a grandi linee e mi ha invitato al suo teatro, che è questo posto pazzesco che sta alla periferia Vincennes di Parigi, al suo teatro del Teatro du Soleil. E vedete, poi a volte succedono anche dei fatti molto particolari, perché cos'è che è la frase più importante che dice Ariane in questo film? E dice, non è tanto importante la festa, è importante la preparazione della festa, è quello che ci porta alla felicità in quel momento, è preparare la festa. Quindi tutto quello che noi pensiamo e ipotizziamo sono tutte fantasie, cioè la felicità che ti fa felice, il denaro, le cose, e non riusciamo mai a capire un fico secco che invece la felicità ci è imposta come parola dal mercato. Ed è il mercato che veicola questa incontinuazione, perché voi guardate gli spot pubblicitari, cos'è che da tutti gli spot raccontano di come possiamo essere più felici con quel materiale, con quella cosa, con quei prodotti. I libri che escono con la parola felicità sono innumerevoli, i film che contengono dialoghi sulla felicità, ma ce ne sono tantissimi, le fiction, non parliamo delle fiction della televisione, che io poi oltretutto faccio per lavoro, no? E quindi non parliamo di quello, cioè se tu gli racconti delle cose che fanno così felice il loro pubblico, te la producono. Non a caso che Cozzalone porta felicità nel pubblico, no? Capite? E' il suo lavoro, e quindi lo fa benissimo. E così la preparazione di questo film è venuta all'impronta. Ecco, chiamiamo dovunque andavo, cercavo poi i collegamenti con la loro realtà del posto, no? Vedete la Germania. E quello che posso dire oggi è che è un film che ha inseguito la storia, e la storia ha inseguito questo film, perché poi mi sono trovato nei paraggi appunto di Chalietto, nei paraggi del Bataclan, mi sono trovato a Berlino con tutto quello che avete visto. e quindi, voglio dire, andando avanti, andavo avanti anche fino a Trump, volendo. Ho chiesto, facendo questo film, una cosa, uno strap in America che volevo fare, avevo chiesto a Sanders, era l'unico politico che mi interessava in quel momento, una possibilità, e l'ufficio stampa di Sanders rispose dicendo se venite dove siamo noi, lui è ben contento di vi lasciare un'intervista, solo che Sanders si spostava come un grillo da tutta l'America, vado a prendersi, saremmo anche riusciti. Poi dopo però mi sono domandato, non è un potente, Sanders non è un potente della politica americana, però è un politico, l'unico politico che poi ho tenuto nel film è Mujica, che non è un politico, ma che era un guerrigliero. Ecco, tutto qua, perché i documentari che parlano, che chiedono cose ai potenti, a me personalmente fanno la prevedire, e quindi non li tratto, ma non così, perché sono già potenti, ma chi se ne frega, se sei potente, basta. C'è un signore, no? Sì, è vero che si esce diversi, un po' più inquieti, però almeno per quanto mi riguarda, perché diciamo che pare che il mondo vada completamente dall'altra parte, se si pensa che nel PIR è stata messa il prodotto della mafia, o dello spaccio, chiaramente, è completamente opposto. E mi viene questo piccolo commento, spero che davvero questo film esca, che si possa andare a vedere anche con altre persone. mi viene un paragone abbastanza forte con un film che ho visto lunedì sera, che è Porto Off Call, se non l'avete visto, è un film molto bello, che rappresenta in maniera veramente squalida un mondo completamente materializzato, e che è quindi, diciamo così, molto, diciamo così, in contrasto con quello che è stato rappresentato, anche come speranza in questo film. Quello che mi inquieta è che mi sa che si va un po' più verso quella cosa là. Ma io le posso consigliare di leggere un piccolo racconto di Mandeville, un filosofo del Settecento, che si chiama La Favola delle Appi, e capisce come un mondo governato dalle appi, tutto però pulito, organizzato, onesto, non può fare a meno dei propri criminali.